Allora, siamo in questi giardini splendidi, ci racconti un po' la storia del luogo in cui siamo. IGEA, il Giardino delle Erbe Aromatiche, è un giardino di recente costituzione perché è stato aperto al pubblico nel 2001 ed è specializzato, come intenzioni, nella raccolta di tutte quelle erbe che si usano in cucina, in profumeria, nell'industria dei liquori. Però, raccogliendo noi erbe che provengono da tutta parte del mondo, col passare degli anni ci siamo resi conto del problema attualissimo dei cambiamenti climatici. Noi abbiamo erbe e piante che vengono dalle zone subtropicali, foreste pluviali e vediamo che stanno adattandosi ai nostri climi. Di conseguenza, le finalità attuali, gli studi che stiamo facendo, è vedere come man mano le piante si adattano a climi diversi. Qui in Piemonte, io porto l'esempio perché l'abbiamo qui vicino, in questo momento riusciamo a coltivare in piena terra gli aranci, che erano esclusivi fino a alcuni anni fa dell'Italia meridionale. Qual è la finalità? Non è soltanto la curiosità di avere questo tipo di piante, ma anche quello di portarlo poi all'attenzione dell'agricoltura. Perché è chiaro che se noi coltiviamo gli aranci e pensiamo che nell'ambito di 3-4 anni riusciremo a mettere in piena terra anche i limoni. Questo fa sì che si apre un mercato non tanto per l'Italia settentrionale, ma io penso alla Francia meridionale, alla Spagna settentrionale, un mercato nuovo. Cioè si comincerà ad avere una concorrenza di prodotti che un tempo erano esclusivi dell'Italia meridionale. E questo significa che Sicilia e nelle altre regioni del meridione devono prepararsi a questo evento. Eventualmente a loro volta sostituendo le coltivazioni tradizionali con coltivazioni che il nuovo clima permette di avere. Lo stesso dicassi in Piemonte. In Piemonte mais e grano turco presenteranno presto dei problemi, purtroppo anche la vite presenta delle grosse problematiche patologiche soprattutto, mentre ci sono dei frutti poco conosciuti per i quali bisogna creare una filiera, chiaramente, che tuttavia potrebbero sostituirli. E quindi è la nostra finalità didattica che è quella di vedere che cosa si può fare e poi suggerire queste cose. La regione ci sta seguendo proprio per vedere la reazione di queste piante all'adattamento, le malattie che possono avere e cose di questo genere. È uno dei 50 giardini più significativi del Piemonte, ma propriamente un orto botanico più che un giardino. Si stende su 7.000 metri quadri e attualmente ci sono più di mille varietà diverse di piante aromatiche.